Questa notte erano le quattro, quando mi svegliai all'improvviso. Non compresi subito che fossi sveglio. Mi sembrava ancora di sognare, o forse lo stavo ancora facendo. La sensazione che predominava in quegli istanti era molto chiara, ma soprattutto tangibile. Provavo un senso di libertà assoluta, nonostante il mio corpo fosse ancora addormentato. Non rispondeva ai miei comandi. Era in una sorta di trance, di sogno ad occhi aperti, ma a tutti gli effetti ero cosciente di essere sveglio. All'inizio provai persino a dimenarmi, ma compresi fin da subito che era del tutto inutile continuare a farlo. Era come se fossi incatenato, o meglio, imprigionato dentro un sogno. Ma i miei occhi vedevano, e anche se era buio, riuscivo comunque a vedere tutto ciò che c'era nella stanza. Allora decisi di smettere di tormentarmi, smettere di dimenarmi, e di lasciarmi andare a tutto quello che riuscivo a sentire. E proprio alcuni secondi dopo, provai un'immensa sensazione di libertà, un senso di pace. Avvolgeva il mio essere. Smisi persino di percepire il mio corpo. Era come se fossi diventato energia, libero di fluttuare in ogni luogo, ovunque volessi andare, ma decisi di restare, di rimanere ad amminare tutta quella luce che mi avvolgeva. Era una sorta di luce, dentro la luce, dove non sentivo né caldo né freddo, dove mi sentivo completamente a mio agio, esattamente me stesso. Quando all'improvvisi vidi un volto, ma non riuscii subito a vedere chi fosse. Allora guardai più attentamente, spalancai gli occhi, e vidi una donna che mi sorrideva. A mia volta le sorrisi. Provai dei brividi in quell'istante, ma non sul mio corpo, in quanto ne avevo perso completamente la percezione. Ma dei brividi che mi emozionavano, dei brividi di gioia, di serenità, di vita, di luce. Mi scesero persino le lacrime. Ero davvero felice. Mi sentivo come mai mi ero sentito in vita mia. Perché quel volto, alla quale stavo sorridendo, era il volto più bello che avessi mai visto. Un volto che non dimenticherò mai. E solo in quell'istante compresi. Era proprio lei. E anche se erano passati ormai 31 anni, lo riconobbi molto bene. Non riuscivo a crederci. Ma era proprio così. Quello che stavo guardando era proprio il volto di mamma. E così rimasi ad ammirare quel volto. Avvolto in un senso di pace. E questo fu un regalo di Natale più bello che potessi mai ricevere. Buon Natale a tutti voi. E se potete, amate i vostri cari.